Fabri, cos'è successo oggi? Oggi siamo stati accrediti da alcuni esponenti di centri sociali di Bologna, testimonia anche il vetro della macchina rotto qua dietro. Ce l'hanno trovati in una zona fuori dal campo che dovevamo visitare, in cui chiedevamo soltanto di controllare effettivamente come vengono spesi i soldi dei cittadini bolognesi ed emiliano romagnoli. Si sono avvicinate queste 20-30 persone con fare minaccioso, siamo scappati, siamo andati sulla macchina e poi il filmato parla chiaramente di quello che è capitato all'auto di Matteo Salvini. Ora avanti con la campagna elettorale. Ho appena scritto su Facebook, avanti.